Musica Pensavamo che fosse un momento a marcorde per tanti genitori perché alla fine è aprito e è rivolto ai bambini ma in realtà alla famiglia, all'idea di poter stare tutti insieme e far divertire tutti Quindi noi abbiamo tra i 30 e i 40 anni pensavamo di chiamare quel pubblico invece abbiamo visto ragazzini di 20 anni qui dentro e ha preso davvero tutti E' stata veramente una gioia Musica Cristina D'Avela chiude così con un boom di presenze e l'ultima grande festa di aprito ma è già in cantiere una prossima ed attesissima stagione della manifestazione Io credo che questo stesso contenitore, il progetto stesso di aprito voleva rivolgersi a un intrattenimento si fa presto a volte a dire sano però a mio avviso poi bisogna dare le chiavi per poterli far divertire in modo sano E lo sport e la creatività dell'altro padiglione, la musica in realtà risvegliano in tutti poi alla fine le stesse emozioni positive E abbiamo visto che questa cosa in tutte le edizioni precedenti era già stata vissuta in modo molto forte Oggi è una festa finale a tutti gli effetti Oggi è una festa finale a tutti gli effetti